Lorenzo Spolverato, modello milanese, è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Fin dalle prime battute, il suo carisma e il legame con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia, hanno catturato l'attenzione dei telespettatori, creando interesse tra i fan del reality. Lorenzo Spolverato, rivelazione intima, ecco, Lorenzo Spolverato, modello milanese, è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Fin dalle prime battute, il suo carisma e il legame con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia, hanno catturato l'attenzione dei telespettatori, creando interesse tra i fan del reality. Tra Lorenzo e Shaila, sembra essersi instaurata una forte intesa. La loro complicità è evidente, e durante una conversazione notturna con la coinquilina Ilaria Clemente, Lorenzo ha ammesso di essere particolarmente interessato alla ballerina. Mi piace davvero, c'è un'attrazione. Questo ha immediatamente scatenato gli shippers, che sui social hanno già iniziato a speculare su una possibile relazione tra i due concorrenti. La rivelazione, intima, di Lorenzo. Tuttavia, Lorenzo non è al centro dell'attenzione solo per la sua vicinanza a Shaila. Nelle ultime ore, una sua dichiarazione, intima, ha fatto il giro del web. Durante una conversazione informale con alcuni compagni di casa, Lorenzo ha confessato di non indossare mai le mutande. Mai usate mutande. Dormo senza, mi alleno senza. Voglio sentirmi libero. Il momento clou è arrivato quando, durante una sessione di allenamento con Shaila, Lorenzo si è platealmente, aggiustato, con la mano, suscitando la reazione divertita e incredula della ballerina. Che hai fatto? Ti sei toccato il pacco? Ma sei pazzo? La spontaneità di Lorenzo e il suo modo di fare senza filtri, stanno contribuendo a renderlo uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. La sua capacità di attirare l'attenzione, sia per le dinamiche relazionali, sia per le sue dichiarazioni sopra le righe, lo sta rapidamente trasformando in uno dei concorrenti più popolari del reality. Resta da vedere se la sua vicinanza a Shaila evolverà in qualcosa di più o se sarà la sua personalità esuberante a tenere i riflettori puntati su di lui. Nel frattempo, il pubblico è curioso di scoprire cosa riserverà il futuro per questo concorrente è già molto discusso.